Amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati qui da Tbilisi, siamo qui dove è nato Opecia-Querazkelia, dove è cresciuto Opecia-Querazkelia e anche siamo da chi dobbiamo ringraziare ovviamente per vedere un giocatore così forte qui in Maglia Azzurra. Siamo qui nella sede della Dinamo Tbilisi per parlare con il presidente Roman Pipia che ovviamente ringraziamo per accoglierci nel suo plebio. Thank you, I will speak in Italian, then they will translate. Presidente, come ci racconti un po' la Dinamo Tbilisi, cosa è per lei? Signore, mi ch Mickey, succedevano le scronte ciòamba di unzzato. Proverete anzioni sparato con Dinamo Tbilisi? Questa è una buona giornata in generale. Ne parlatevi qui di cliente? очень 고m bine, Games è stato che la cursione di Anzion Ramaph evit掉, Penso di congiita di una Rob çà forza la sua propria Cookie. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info per la famiglia è stato fatto il Dynamo e il Neapol, ma è stato fatto con il Dynamo? È stato un problema che siamo stati finiti, non è stato un problema. Mi raccomando sono lasciati a cercare del Dynamo per le Dynamo e il Neapol. Grazie a tutti. Il Presidente dice che questo è il merito di Quara, ha costruito questa ponte tra il popolo napoletano, il popolo giorgiano, anche il merito della gente che tifa per Napoli. Perciò Quara ha creato questa ponte e su questa ponte comunichiamo in questo momento con la Napoletania e la Giorgiana. Lei ha spinto la Dinamo Tbilisi molto sul settore giovanile, tanti giovani e proprio dopo questa mossa, comunque, a seguito di questa mossa, è entrato anche Quiccia nel settore giovanile. Ci racconti un po' il suo progetto e poi se si ricorda il momento in cui arrivò un ragazzo che è Quiccia. In questo momento, il Presidente ha fatto un po' il suo progetto e ha fatto un po' il suo progetto. E' un po' il suo progetto, è quello che ha fatto, ha fatto un po' il suo progetto. che ci sono i nostri amici? No, io ho detto che ho avuto l'academia, e ho avuto l'academia. Non ho avuto l'academia, ma non ho avuto l'academia. e mi ha fatto contatto con la mamma. E... e... che mi ha detto che... e... e... non ci sono mai più. Non ci sono mai. Non ci sono mai. Non ci sono mai. La mia famiglia è stata una scola. La mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia. La mia famiglia è stata una scola di Cristiano, Ronald, la mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia, la mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia, e la mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia. La mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia, e la mia famiglia è stata una scola di Gauhzenia. L'Accademia Giovanile della Gauhzenia si è inaugurata nel 2013. Durante l'inaugurazione avevano qui Cristiano Ronaldo. Il Presidente ricorda come anche qua era felice, come altri giovani ragazzi della Dinamo Tbilisi. Il Presidente ricorda questo periodo molto bene, perché Quara è un ragazzo molto talentoso. Questo talento si poteva vedere anche quando era giovane, quando è venuto alla squadra. Anche il papà di Quara aveva contatti con l'allenatore della Dinamo Tbilisi. Lui dice che era un giocatore, è un giovane molto dedicato, molto talentoso, molto concentrato sul calcio e sul lavoro. Lui ha giocato poche partite nella Dinamo Tbilisi prima di andare via. Si ricorda il debutto e il primo gol di Quara? Lui è il primo gol di Quara? Lui è il primo gol di Quara, e mi ha detto che sono tutti i nostri amici, quindi sono tutti i nostri amici. Ma che è stato fatto il Qoblato? No, sì. Quindi si è stato fatto il Qoblato. Il Qoblato è stato fatto. Ma io ho detto che non c'erano il Qoglato. Il Qoglato è stato fatto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è stato un gol molto molto bello Anche come un giovane giocatore era molto attivo C'è stato sempre un interesse dei club stranieri Anche dalla Russia per Quiccia Questo talento e questa particolarità da Quiccia Si vedeva dai anni giovani Che ragazzino era Quiccia? Perché noi a Napoli lo abbiamo imparato a conoscere in questi mesi Ma lui quando si presenta qui alla Dinamo Tbilisi Se lo ricorda? C'è stato un'atticato E' stato un'atticato Allora adami hanno dettagli Allora adami hanno dettagli Che da noi hanno diputato E' stato un'atticato Allora adami hanno anticipato Il Presidente dice che quando qui ci viveva nella cadere dell'allenamento, si frequentava sempre l'Accademia, si osservava con i giovani giocatori, quando sempre è stato, come oggi, umile, disminato, seguiva sempre le regole, era un modello per un giocatore e per un uomo. Si aspettava potesse esplodere così? Cioè in questo momento è uno dei giocatori più in vista in tutta Europa. E vi ricordano che sicuramente era un po' di nosotros. come se fosse un'eurodente. Non è così. Non è così. Un'altra cosa che ha detto nel senso di un'esperto, ma non sono stati uccionato l'academia. Non è stato il senso di essere uccionato l'academia. Il fatto che il DINAMOS ACADEMIA era un'esplosione di Doni Scola. E' un'esplosione che avevano un'esplosione. E' un'esplosione che avevano un'esplosione. E' un'esplosione che avevano un'esplosione. C'è stato il l'esplosione che avevano. Mi ha parlato di scola della scola e della scola. E' un'esplosione che avevano un'esplosione di fondo. La scola degli attel Ravens no sono stati cercato per la scola. E' un'esplosione che non è volerà. e non ci sono più volte. Non ci sono mai tanti aiutati. Se è venuto a me, non mi ha fatto capire, non mi ha fatto capire. che non mi ha fatto capire, non mi ha fatto capire. Ma mi ha fatto capire, ma mi ha fatto capire. Dice che è molto difficile se rispondere a questa domanda, si aspettava o no, però quello che dice è che nell'Accademia si è ricevuto un'educazione calcistica, perché avevano ancora i migliori allenatori, hanno un sistema aggiornato, un sistema moderno per preparare i giovani giocatori e anche il Presidente dice che oggi nella Nazionale Giorgiana ci sono nove giocatori che hanno passato questo sistema dell'Accademia di Dinamo Tupilissi, perciò il Presidente dice che ci sono i talenti in Giorgia, però bisogna lavorare con questi talenti, bisogna prepararli e questa Accademia creata dal Presidente funziona in un modo proprio per scoprire i talenti e per preparare un gioco simile. Grazie a tutti, grazie a tutti. Visto che Dinamo Tupilissi sia un campione giorgiano da molti anni, ma qui c'è un modello per i giovani giocatori giorgiani, sia un modello che si può fare, è un modello che si lavora, con questa dedicazione si può fare tutto e perciò qui c'è mostra ai giocatori giovani giorgiani che se anche loro fanno in questo modo, sì, anche avranno successo nel futuro. C'è qualcosa che lo rende speciale? 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 C'è qualcosa che lo rende un po' più le persone, ma che lo rende mele, professionale di Quara, perché nei giovani giocatori non è una cosa spessa, però Quara ha questo atteggiamento professionale, Quara ha un carattere, questa combinazione della qualità calcistica e della qualità umana, è una persona umile che è concentrata sul calcio, ha questa dedicazione e questo rende lui speciale. L'ha più sentito, se vi siete mai sentiti in questi anni, perché oltre al rapporto calcistico chiaramente, suppongo ci sia anche un rapporto umano. Tra il Presidente e Quara? Sì. Quando ti senti a casa, come hai detto, hai detto che hai detto che hai detto, come hai detto, come hai detto? Quattro, ho detto, hai detto che hai detto che hai detto, perché hai detto che hai detto, quando ha lasciato sì il Dinamo Tbilisi, però anche oggi abbiamo una comunicazione normale, quando è stato il Dinamo Tbilisi, perché il Dinamo Tbilisi ha dato a Guara tutto, tutto possibile. Ecco, da presidente della Dinamo Tbilisi e da cittadino georgiano, cosa significa a Guara Scoglia? Perché tanti tifosi anche a Napoli e qui a Tbilisi che abbiamo incontrato, erano euforici al nome di Guara Scoglia? Trovo, ricorda che il presidente è stata una legione che erano state lavori da Guara Scoglia. Ricorda che il Danilo non ha dato bisogno di essere a blah ma hiper e il partnership, Ma è un po' di più, ma è un po' di più. la un'esituzione, e a una persona che si era il suo interesse, che aveva un'esperienza, ma non era lo stesso. No mi ha detto che era l'esituzione. Non mi ha detto che era un'esituzione. Non è solo il nostro. È un'esituzione molto. È un'esituzione, ma non è corretta. Questo è il nostro esplosione, è un'esituzione. La prima a questo punto è stata a Napoli, l'aspettiamo a Napoli, se esce un nuovo Quaraschelia dall'Accademia si chiama il Napoli per via di questo legame. Ora sono state in modo che ci sono stati a Napoli, quindi si è stato un progetto in Napoli? Non è stato un progetto in Napoli, ma in Napoli si è stato un progetto in Europa, ma in questo modo non è un progetto in Repubblica, Mi ha detto che il primo interesse del Presidente che non ci sono mai riuscito a cercare l'area dell'azienda e non ci sono mai riuscito a cercare. Mi ha detto che il DINAMO è stato il DINAMO, ma non è stato il DINAMO. Non è stato il DINAMO. Il Presidente dice che in questo momento ci sono appuntate da altri club europei, però non da parte del Napoli, il Presidente dice che vuole cooperare con il Presidente De Laurentiis, perché ci sono molti talentosi giovani giocatori in Georgia, a Dinamo Tbilisi in particolare, anche il Presidente dice che l'anno prossimo forse alcuni giocatori dell'Accademia del Dinamo Tbilisi saranno nei club grandi europei, però il Presidente è pronto per cooperare con il club del Napoli, con il Presidente del Napoli e perciò è da decidere da Aurelio De Laurentiis. Il Presidente dice che qualche giorno fa, ci sono quattro procuratori principali nel calcio mondiale e ha incontrato due di questi quattro c'è interesse per i giocatori del Dinamo Tbilisi da parte di questi agenti principali nel livello mondiale ecco l'ultima, se puoi guardare in camera e manda un messaggio a Quiccia Quaradschelia grazie a tutti che ci sono i nostri amici, e ci sono i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.